Nen sprote in un minuto carita faccera. Un saludito a ste compa. Aaaaaahhh! Aaaaaahhh! Ya nos cargo la chingada! Piou! 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 Yooo! Pfff! live Me voy a la guerra centre per Xavi. La assistenza a Xavi explains. Estimalo vabbabbabbabbabbabbabbX VING Entscheidando poco io poi a mi destino e voi a ganar me lo voy a coger